Confcommercio ha organizzato per oggi una giornata di mobilitazione nazionale per denunciare la drammatica situazione che il nostro sistema di imprese da troppo tempo sta vivendo sulla propria pelle a causa di un'eccessiva pressione fiscale, di un crollo dei consumi senza precedenti, di un difficile e costoso accesso al credito, di una burocrazia esasperante ed onerosa, per citare solo alcuni punti di grande criticità. Vi è una convinzione generalizzata nel mondo delle piccole imprese, Confcommercio Abruzzo oggi è presente in numero consistente con la rappresentanza delle quattro province perché vogliamo rappresentare a tutti coloro che hanno una qualche responsabilità al nuovo Parlamento che nascerà, la nostra capacità e la nostra volontà di dare un contributo particolare. Noi rappresentiamo come rete imprese Italia il 60% del prodotto interno lordo, il 60% dell'occupazione e abbiamo la capacità di creare occupazioni e di dare stabilità al sistema economia. Questa è la nostra ferma volontà, oggi desideriamo dire che ci stiamo e desideriamo dare un contributo nuovo e diverso rispetto al passato. Evento regionale oggi a Chieti presso la Camera di Commercio di Chieti Scalo. Una tavola rotonda, se le imprese chiudono chiude anche il Paese. Duro il presidente di Confcommercio Pescara Ardizzi, determinato il presidente di Chieti, Allegrino. Questa volta nei confronti della politica, degli amministratori, dei governi, delle regioni, e noi non faremo sconti. Io personalmente se potrò, se riuscirò, darò anche qualche calcio perché ci siamo stufati. La politica purtroppo sono anni che ha abbandonato questo settore, abbandonato significa poca, pochissima attenzione, quando è un settore che senza dubbio può dare tantissimo, anzi, mi sembra che una grossa fetta del PIL sia proprio dovuto alle aziende commerciali, piccoli imprenditori e del turismo. Quindi noi convidiamo, ma adesso lo diciamo con forza, che chi ci governa, e quindi la classe politica, dia più attenzione a un settore che dal lato economico può dare posti di lavoro e può dare economia reale. Avete visto che 3 miliardi e 900 milioni al Monte Paschi di Siena, sapete cosa? È l'equivalente del Limo. Abbiamo chiesto al governo, facci lavorare, lasciaci un latere tranquillo, dalla possibilità alle famiglie di spendere, a noi di incassare. E beh, non l'hanno fatto, ma hanno finanziato, con i soldi del Limo hanno finanziato il Monte Paschi di Siena. Devono andare tutti a casa.